e finisce così la partita dello stadio Giuseppe Meazza l'Inter clamorosamente batte il Napoli prima vittoria in un big match l'Inter vince il primo big match dell'anno contro la capolista, contro il Napoli a San Siro, al Meazza batte la rete decisiva Edin Dzeko ciao ragazzi, ben tornati in questo video qui al GAPES oggi, siamo venuti qui ragazzi in un nuovo video, siamo appunto qui nel GAPES commento e nel commentario post partita di Inter-Napoli sul risultato di 1-0 la rete decisiva di Edin Dzeko che decide questa partita prima di tutto ciò come al solito vi ricordo di lasciare un mi piace per supportare questo video un commento di una vostra che cosa ne pensate, vi ricordo come al solito ho fatto anche la live reaction di questa partita sulla piattaforma Viola vi lascio il link sotto in descrizione nel primo commento, seguitemi anche su Instagram, TikTok, tutti quanti i link trovate sotto in descrizione il link della live ve lo lascio in alto bloccato nel primo commento quindi se volete andare a vedere la live reaction di questa partita poi ovviamente vi ricordo che questa sera più tardi andrò in live andrò in live però per quanto riguarda il gameplay sempre sulla piattaforma Viola non vi potete sbagliare il link ve lo lascio nel primo commento parliamo un po' della partita di quello che è stato questa sera l'Inter che clamorosamente a sorpresa io mi aspettavo in realtà un pareggio da questa partita io mi aspettavo in generale un pareggio comunque mi aspettavo un 1-1 o 2-2 però in realtà l'Inter con tenace e cattiveri si porta avanti al cinquantesimo e la decide Edin Dzeko gol decisivo l'Inter ce l'ha già provato nel primo tempo l'Inter che tra le due è quella che ha giocato meglio è stata più pericolosa soprattutto nel primo tempo e nel secondo tempo dopo il vantaggio si è ammorbidita ha giocato un po' più il Napoli nel secondo tempo però la rete diciamo da dopo il sessantesimo l'ultima mezz'ora ha giocato un po' il Napoli però il Napoli ovviamente doveva recuperare aveva dentro tipo 5 attaccanti praticamente ha messo tutti i cambi offensivi ha messo tutti i spalletti un altro po' mi chiamava pure a me per mettermi in attacco a un certo punto siete pure Kim che si stacca dalla difesa e va a giocare in attacco ma il Napoli non riesce comunque a pareggiarla perché con tenaci e cattivare l'Inter si porta avanti si porta a casa questo primo big match vinto il primo big match vinto di quest'anno ma anche di questa stagione perché fino adesso non aveva vinto neanche un big match un pareggio sconfitte vittoria secondo me meritata per mister Piangina mister spiase spiase ma oggi hanno vinto spiase e vanno l'Inter che raggiunge quota 33 punti Roma e Lazio la Lazio che ha perso la Roma che ha vinto stanno a 30 punti in classifica quindi allo stacco di più 3 l'Inter che si avvicina alla Corsa Champions si avvicina comunque scavalca la Roma e Lazio e si avvicina e agguanta diciamo e agguanta fammi vedere un attimo la classifica al volo agguanta il quarto posto in classifica clamorosamente la Lazio invece quinta a 30 punti la Roma se sta sempre a 30 punti ma siamo tutti lì appiccicati perché poi c'è la Juve a 34 e il Milan a 36 quindi classifica abbastanza corta e il Napoli distaccato ancora a 41 facciamo attenzione però il Napoli che con questa sconfitta prima sconfitta stagionale potrebbe aver risentito il Napoli durante queste questa lunga sosta il Napoli potrebbe aver perso lucidità e forma fisica però diciamo è la prima partita si sa che la prima partita possono succedere tutte le cose abbiamo visto il Sassuolo che perde Guasamp abbiamo visto la Lazio che è perso con il Lecce quindi ci può stare la sconfitta però ovviamente questa è la prima sconfitta dell'anno per il Napoli non è una buona partenza però il Napoli ha tanti punti di vantaggio Spalletti non deve fare la fine che fa ogni anno per cercare di portare il Napoli a vincere eventualmente lo scudetto chi lo sa chi lo sa ovviamente schietolo qua sotto se il Napoli crollerà e perderà terreno continuerà a perdere terreno oppure magari si riprenderà già dalla prossima giornata secondo me un calo ce l'avrà sicuramente il Napoli perché non può essere non è un robotica ce l'avrà probabilmente in questa fase iniziale ma secondo me si adaguerà comunque poi su quella posizione lì più o meno se la lotterà all'ultimo secondo me tra il primo e il secondo posto vedremo come finirà comunque l'Inter che segna il gol è Di Ngeco nel primo tempo c'era già passata vicino in vantaggio con sempre diversi miracoli oggi ha tenuto Baracca e Burattini diciamo ha tenuto la porta blindata il Napoli che perde ma comunque sempre prima 9 tiri da parte del Napoli 2 nello specchio mentre l'Inter 6 tiri 1 nello specchio il 64% possesso parla il Napoli l'Inter 36 diciamo che mi aspettavo onestamente qualcosina in più dal Napoli dall'Inter diciamo mi ha sorpreso molto in positivo fatemi sapere la vostra qua sotto con un commento se vi piace se avete visto la partita e vi è piaciuta come al solito un mi piace è gratis un commento ditemi la vostra se siete nuovi iscrivetevi al canale mi raccomando è gratis cerchiamo di crescere iscrivetevi condividete il video e attivate la campana soprattutto quello perché molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti o comunque si iscrivono ma poi non si vengono a rivedere i video perché non hanno la campana attiva quindi se vi state iscrivendo adesso attivate la campana non vi costa niente comunque da Giabbers è tutto vi aspetto dopo più tardi sulla piattaforma viola link qua sotto nel primo commento ciao ragazzi vamos sempre e comunque forza il calcio bella grazie a tutti